Oggi utilizzeremo la webcam, la webcam, scusatevi, l'action cam per fare il video della ricetta di oggi. Fuori c'è un tempo di merda, piove e noi ci facciamo un pranzetto da volo. Intanto cominciamo a far soffritto con aglio e una garota. E come donne, bastone e carota. Che il bastone è la garota perché dopo, capito, tu una garota che fa che ce ne hai due. Intanto è soffritto, va. Non c'avevo una pasta proprio di quelle corte, proprio quelle piccolette. Quindi ho preso i cavadatti perché comunque sono abbastanza larghi. E vanno bene per quello che voglio fare. Perché è quello che voglio fare. Una volta che il soffritto è fatto, vedete che dovete fare. Ci ho messo un barattolo di fagioli. Vedete, fagioli borlotti. E poi ho aggiunto l'acqua, diciamo, che è croce un litro. C'è ancora l'ingrediente che manca, però ci sta. Olio extravergine d'oliva, aglio, carota, sale, perché se ti rompe un pochettino di pepe, fagioli borlotti. E poi manca l'ingrediente. E ora andate a vedere. L'ingrediente che mancava è questo. Le cose. E noi che andiamo a vedere. Non vi preoccupate che sono ancora congelate. Tanto pure che sono ancora congelate. Se scongelano dentro, non vi preoccupate. Adesso deve portare l'acqua a ebollizione, vi ricordate? Quindi, mentre se riscalda l'acqua, lo fate scongelare fuori le cozze. Quando lo ha bollitura, siamo lì, eh. Dobbiamo buttarci solo la pasta e poi creare la cremetta. Io senza alimenti nessuno, ci metto sempre un po' di giù. Però non lo sanno. Però è buono. Se lo dici, non gli piace. Se gli ha comandato senza diglierlo, è buono. Quindi, è buono. Ora ragazzi, qui occhio quando salato. Perché, a differenza di quando fate la pasta all'armanale, che mettete il sale nell'acqua. E poi la pasta l'ha scolata. Veno che la pasta assorba il sale. Ma non tutto. Quindi l'acqua salata vuole ambuttare. Qui l'acqua, diventa l'acqua della pasta stessa, cioè diventa la crema, si assorbe nell'acqua. Cioè, insomma, diventa tutta a minestra. Quindi il sale, che rimane tutto in bocca. E' un'acqua umano. O qui a salarla, eh. Ecco qua, alla fine si è ritirata l'acqua. Mi ha messo un po' di formaggio. Guardate che cremina che c'è. Vabbè. Vediamo un po'. Buona. Adesso la prova dell'assaggio ci vuole. Il pagiolo che incontra il mare con un'esplosione di... Che vuoi che ha fatto? Eccolo. Eccolo. Pasta. Paggiori e cozze. Alla prezza. Se variate, variate. Se variate. Variate. In un'altra maniera. Eccolo. Alla prezza. Alla prezza. Eccolo. Alla prezza. Eccolo. Ferzza. Eccolo.